Come centro culturale abbiamo ospitato e stiamo ospitando questa manifestazione perché nei punti programmatici del partito ci sono due punti che a noi interessano moltissimo, l'istituzione di un luogo dove conservare la memoria, cioè un museo civico e poi la riproposta della festa dei quattro altari che già è stato motivo di interesse e di convergenze durante il periodo di dicembre e che portiamo avanti oramai dal 2016. Abbiamo una lista competitiva, pensiamo che questa città possa esprimere un'amministrazione più sensibile rispetto a quel che è avvenuto per il passato, siamo fiduciosi. La nostra lista è fatta di giovani, giovanissimi ma anche non giovani che hanno deciso di rimettersi in gioco o mettersi in gioco per la nostra città a sostegno di un candidato rispettoso delle istituzioni come l'intero gruppo che abbiamo creato di Alleanza Democratica formata da professionisti e competenti del settore che con il loro apporto e con le loro peculiarità daranno sicuramente un apporto importante alla nostra campagna elettorale. Abbiamo scelto due giovani avvocati, l'avvocato Raffaele Russo e l'avvocato Veronica Solvino che hanno sposato le nostre idee logicamente e come movimento civico siamo molto attenti alle realizzazioni delle cose che si fanno per il paese. Più che alle ideologie che nella politica locale contano abbastanza poco, abbiamo puntato sugli uomini e sulle idee che portano questi uomini per realizzare dei risultati positivi per la città di Torre del Greco. Per una città che vuole il cambiamento, per una città improntata alla cultura, al turismo naturalistico, alla salvaguardia e alla ripresa dell'ospedale Maresca. Uno sguardo alla cultura con due grossi progetti. Il primo è il progetto redatto dal professore Gigi Madonna e dal dottor Davide Madonna per un museo civico torrese nel quale si possa conservare la memoria degli artisti torresi. Il secondo è il progetto del Festival del Cinema progettato dal grande attore Ernesto Maier. Anche io ho deciso di scendere in campo a sostegno del sindaco Luigi Mennella e metterò a disposizione della comunità la mia esperienza a sostegno delle fasce deboli.